La figlia, investita da un'auto tre anni fa e da allora su una sedia a rotelle, ha bisogno di cure continue che i genitori non possono permettersi. L'assicurazione non ha ancora versato un soldo e mamma Clarisse decide di salire sul ponte, minacciando di buttarsi di sotto. È successo ieri a Venegono Inferiore. Attacco frontale del presidente di Confindustria al ministro Di Maio su TAV sbaglia di grosso e un'opera fondamentale, le chiusure domenicali, un insulto a chi lavora, inaugurato il nuovo anno accademico all'Università Liuc. A 12 anni dall'inizio lavori e a due anni dall'entrata in funzione è stata finalmente inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri di Samarate e ora il Basso Varesotto si interroga sul futuro. La prossima caserma sarà quella di Cardano a campo? Due anni di calvario, indagini, accuse e fango, poi il nulla di fatto. Paola della chiesa racconta in un libro la sua via crucis umana e giudiziaria e ne anticipa i contenuti a Rete 55. Cade l'Open John Metis in una gara storta, pareggio per il Varese Calcio, nella pagina sportiva le interviste, le immagini e i commenti. Buonasera e bentrovati, apriamo con una storia di ordinario disagio, mattinata convulsa, ieri a Venegone Inferiore una donna minaccia di suicidarsi buttandosi da un cavalcavia, i Carabinieri la convincono a rinunciare e poi la donna incontra i giornalisti, ma anche e soprattutto forze dell'ordine e comune. Al centro dell'attenzione c'è il destino della sua piccola, una ragazzina di 11 anni costretta su una sedia a rotelle. I dettagli. Non ho paura di morire, forse è questo l'unico modo per far conoscere il dramma di mia figlia. Domenica convulsa a Venegone Inferiore, una donna di 42 anni, Clarisse Sosa, ha minacciato di suicidarsi gettandosi dal cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e ambulanza. Il tratto di strada è rimasto chiuso per un'ora, il tempo necessario al colloquio della donna con i militari dell'arma, agli ordini del maresciallo Spirito, il quale ha convinto Clarisse a evitare l'insano gesto e a rientrare nella casa in cui abita in affitto, distante, poche centinaia di metri. A quel punto il fatto di cronaca si è trasformato in una vicenda sociale, cui ha partecipato il sindaco di Venegono, Mattia Premazzi, intervenuto in prima persona per ascoltare e confrontarsi e prendere in mano un problema tutt'altro che facile. Protagonista involontaria è Stefani, figlia undicenne della donna di origine brasiliana e del marito italiano, Domenico Festa. La ragazzina è stata già a suo malgrado al centro delle cronache qualche anno fa. Era il novembre 2015 quando venne travolta e gravemente ferita da un'auto. L'incidente, avvenuto a Malnate, l'ha inchiodata su una sedia a rotelle, costringendola ad una vita da invalida e dando origine ad un processo che prosegue ancora oggi e che non ha ancora dato alla famiglia alcun ritorno economico di tipo assicurativo. Ha bisogno di esistenza 24 ore su 24. Le case famiglia della zona prevedono liste di attesa chilometriche e i soldi non bastano mai nonostante entrambi i genitori lavorino. Le condizioni di salute di Stefani, sempre più fragile e sempre più cagionevole, sono a dir poco preoccupanti. Io non c'ho paura di niente, so di Dio, ma io c'ho paura della sua situazione che sta peggiorando. Ora all'appello dei genitori si aggiunge quello del sindaco pronto ad aprire una raccolta fondi garantita dal comune. A Stefani servono la cura di un logopedista, l'assistenza continua, ma anche qualcosa di apparentemente più banale come un piccolo cerotto da applicare dietro l'orecchio. Un francobollo, costoso almeno quanto indispensabile per evitare continui capogiri e nausee, dovuti anche ai numerosi interventi cui è stata sottoposta. Il comune si è anche reso disponibile a sostenere la vendita della casa che la coppia stava comprando a Malnate. L'estinzione del mutuo darebbe un po' di ossigeno a persone che non chiedono privilegi né tantomeno la luna, ma solo una mano tesa. Oggi la famiglia ha bisogno di una serie di aiuti. Noi come comune stiamo curando il trasporto della bambina al Bosiso Parini tutti i giorni, a scuola tutti i giorni, però servono cure mediche specialistiche che la famiglia non riesce a procurarsi con gli scarsi mezzi che ha. Io mi sono reso disponibile, oltre all'assistenza che stiamo dando a tutta la famiglia, a lanciare un appello per una raccolta di fondi sensibilizzando l'opinione pubblica sul tema. Come comune, oltre agli interventi economici che stiamo dando, i contributi economici, possiamo creare un fondo sul quale poter far conferire delle offerte benefiche da gestire per le cure specialistiche della famiglia. Quindi su questo ci possiamo impegnare, oltre a quello che facciamo. E qualcuno sta già rispondendo a questo nostro appello. Rete55 si mette a disposizione anche nel ruolo di intermediaria per eventuali offerte, contributi o mani tese anche da parte di associazioni che possano prendersi cura direttamente di questa ragazzina. Cercheremo di seguire nel dettaglio il prosiego di queste disponibilità perché non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte. Qui c'è una persona fragile che ha bisogno di aiuto. A Venegono Superiore, nelle ore più o meno in cui si stava consumando il dramma di Stefani, di mamma Clarisse e di papà Domenico, dei ladri entravano in una casa e questo è il risultato. In una casa privata di Venegono Superiore è stata forzata, poi rubata quest'auto. I ladri sono poi fuggiti, hanno sfondato il cancello e si sono schiantati su un muretto di fatto distruggendo o comunque danneggiando gravemente la vettura. Poi si sono dati alla fuga, sulle loro tracce ci sono i carabinieri. Voltiamo pagina, l'economia ci porta a Castellanza, inaugurazione del nuovo anno accademico per l'Università Cattaneo con parole dure del Presidente di Confindustria all'indirizzo della componente pentastellata del Governo. Vediamo. Castellanza, Università Cattaneo. Poco fa all'interno dell'aula Camillo Bussolati si è aperta l'inaugurazione del nuovo anno accademico. Molte le autorità presenti, a cominciare dal Presidente di Confindustria Boccia, piuttosto critico nei confronti del Governo, o meglio della componente gialla del Governo, cioè il Movimento 5 Stelle. Ascoltiamolo. Nell'assalto ai pilastri di Casa Di Maio, il numero uno degli industriali comincia dalla TAV. In piazza Torino scandisce Boccia. C'eravamo anche noi. C'eravamo anche noi a questa manifestazione di questo popolo silenzioso e che produce. Le infrastrutture sono determinanti per questo paese. Lo sono per due motivi. Il primo è che danno in sé una visione del paese, quella di non essere periferia d'Europa, ma centrale tra Europa e Mediterraneo, è aperta ad est e ad ovest. Il secondo è che sono un'idea di società inclusiva, perché collegano periferie a centro. Quindi le infrastrutture sono un elemento determinante. Il terzo, ne aggiungo un altro, sono coerenti alla dimensione di crescita prevista nella manovra economica. Se non si aprono cantieri è difficile avere la crescita a livello di aspettative dello stesso governo. Altrettanto chiaro sulle chiusure domenicali dei negozi. Per il mondo dell'industria il lavoro è un dono, è la grande missione del paese. La domenica è anche un atto di civiltà. Avere negozi aperti per chi lavora tutta la settimana è un atto di grande civiltà. Di fronte al presidente Boccia, di fronte ai vertici Liuc, tante altre autorità, dicevamo, cominciare dal ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, al quale sono stati rivolti i primi appelli affinché la ricerca e l'alternanza scuola-lavoro a rischio tagli vengano invece rafforzate e confermate. Anche perché solo coltivando le nuove generazioni, solo investendo nella crescita dei giovani e quindi in particolare di scuola e università possiamo pensare che anche la crescita del paese ricominci a marciare. A questo proposito non sono mancate note dolenti, cioè un certo piglio critico da parte di Michele Graglia, presidente dell'Università Cattaneo, che proprio nella sua apertura di cerimonia non ha mancato di sottolineare qualche critica su un approccio governativo che sembra sottostimare l'importanza di impresa e lavoro. Io avverto il rischio che non si creino le condizioni adatte per far fare agli italiani quelle che sono capaci di fare, cioè creare lavoro tramite le imprese. Oggi nel mio intervento breve cercherò di far passare proprio questo messaggio. Noi abbiamo bisogno di non avere tentennamenti su quello che è la visione di base, su cosa può dare sviluppo a questo paese. La visione di base, le risorse che sono indispensabili per far crescere un paese e anche sostenere quelle che sono le facce del paese in difficoltà si creano soltanto con del lavoro, del lavoro duraturo e non si possono creare in maniera, come dire, temporanea. Sul fronte più interno dell'Università Cattaneo le cose vanno bene. Questo è un Ateneo che gode di buona salute, lo dimostrano i dati sulla ricerca, sulle nuove iscrizioni, sulle esperienze all'estero, sulle nuove pubblicazioni e questo nonostante si stia aprendo il primo anno accademico senza nuove immatricolazioni in giurisprudenza. Una scelta drastica che però non ha registrato i contraccolpi inizialmente temuti. Ne parliamo con il rettore Federico Visconti il quale si vuole soffermare in particolare sull'importanza di aver affiancato alla formazione didattica una formazione più filosofica relativa al pensiero economico di pari passo con gli sviluppi della modernità. Mi sembra che stiate anche facendo qualcosa di interessante nell'approccio al pensiero filosofico legato all'economia, con alcuni laboratori, con alcuni approfondimenti. Questo non è banale perché significa riflettere sul cambiamento in modo diverso dai soliti parametri. Ma è chiaro che il mercato del lavoro adesso ci chiede sempre più ragazzi bravi non solo nelle competenze tecniche ma in una serie di elementi che vanno un po' perdendosi. Collegare più problemi, andare in profondità, saper lavorare in gruppo e dietro c'è una dimensione educativa che va al di là delle competenze specifiche. Per questo bisogna allenare i ragazzi a questa dimensione educativa. In questo essere vicino alle imprese è di grande aiuto, anche l'attività della nostra business school che ci costringe a stare vicino alle imprese e riporta a casa dei messaggi che sono più diretti per i ragazzi. Quindi questa componente di pensiero fa parte di un progetto educativo su cui stiamo lavorando con insistenza e anche con metodi nuovi, con metodi didattici nuovi. E dopo questo reportage andiamo a Somma Lombardo. Le immagini che state per vedere si riferiscono al fiume Ticino, in particolare al suggestivo Pamperdutto che proprio nel territorio di Somma nasce con le sue inconfondibili dighe e col colpo d'occhio naturalistico davvero mozzafiato. Le immagini sono di un nostro telespettatore, Davide, il reporter per caso che come sempre ringraziamo anche per la qualità del suo lavoro e che ci propone queste immagini che fanno riferimento alla piena, alla piena del Ticino, nei giorni scorsi complici le copiose piogge. Situazione sotto controllo, adesso anche in fase di normalizzazione, visto che da qualche ora ha smesso di piovere e le previsioni sembrano essere clementi, però insomma gli occhi ovviamente restano puntati sulla situazione. Inaugurata finalmente potremmo aggiungere a Samarate la nuova stazione dei Carabinieri, i lavori erano iniziati più di dieci anni fa, la caserma in realtà è attiva già da quasi due anni, ma insomma finalmente si è vissuto anche il taglio del nastro. Ci sono voluti circa dieci anni di lavori per consegnare alla città di Samarate la sua nuova e moderna caserma dei Carabinieri. La sede in via Ricci è stata inaugurata ufficialmente sabato alla presenza di numerose autorità, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti al senatore Stefano Candiani, dal comandante generale dei Carabinieri Antonio De Vita al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dal neoeletto presidente della provincia di Varese Emanuele Antonelli all'onorevole Leonardo Tarantino, già sindaco di Samarate, affiancato da Alessandra Cariglino, vice sindaco facente funzioni. Una storia a lunga quella della caserma samaratese, iniziata nel 2004, quando i militari dell'arma vennero temporaneamente ospitati nel palazzo comunale Casa Mauri. Nel 2006 presero il via i lavori per la realizzazione della nuova caserma, terminati nel maggio 2015 con il definitivo trasferimento dei Carabinieri il 30 novembre scorso. Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Manzoni, felici di sventolare le loro piccole bandiere tricolore in segno di festa. E poi la fanfara del terzo reggimento Carabinieri Lombardia, i rappresentanti delle associazioni combattenti, i sindaci dei comuni limitrofi, Gallarate, Cardano Alcampo, Lonate Pozzolo, Ferno e il direttore del carcere di Busto Arsizio, Orazio Sorrentini. A tagliare il nastro Elena Farano, compagna del brigadiere Giorgio Illuminoso, che perse la vita in servizio nel 2009. Oggi è davvero una giornata di festa, la caserma è già operativa da circa un anno ma serviva un po' un sigillo e l'inaugurazione rappresenta quello. Noi Samarate è molto contenta di avere qui i Carabinieri, c'è una grossa collaborazione, sono presenti sul territorio e quindi era giusto comunque onorarli anche con una festa partecipata e ringrazio per questo anche i cittadini che hanno davvero mostrato una vicinanza all'arma dei Carabinieri. Siamo veramente fieri di aver consegnato all'arma a questa stazione, uno strumento importante per operare sul nostro territorio e continueremo come in questi anni a collaborare con loro e ad altri strumenti anche per operare al meglio rispetto alla sicurezza. Un nuovo preside adeguato alle esigenze della stazione, adeguato alle esigenze della comunità, questo è un punto focale della scelta dell'arma e anche delle strutture. La stazione Carabinieri deve rappresentare un punto di riferimento per la comunità e deve avere tutte quelle caratteristiche che consentano anche al cittadino che si appropinco alla stazione di ricevere un adeguato servizio anche di tipo infrastrutturale. Resta qualcosa da cambiare di fronte a un sistema che ci porta oggi a fare festa qui a Samarate mentre non lontano altri cittadini stanno ancora aspettando, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti riferendosi ad altri comuni in attesa di una caserma come quello di Cardano al Campo dove la sede di Via Ruberto potrebbe essere pronta a breve, come dichiarato dal sindaco Angelo Bellora. Due anni di calvario per Paola della Chiesa, ex direttrice dell'Agenzia del Turismo. C'è il lieto fine, sì, ma in mezzo c'è tanta sofferenza raccontata in un libro. 14 novembre 2015, il calvario di Paola della Chiesa comincia quel giorno. La provincia ha cambiato guida politica, l'Agenzia del Turismo è stata rapidamente smantellata e per la sua ormai ex direttrice sembrano aprirsi tante altre opportunità. Una nuova impresa? Magari un impegno all'estero? Niente di tutto questo, perché da quel giorno e per i due anni successivi della Chiesa dovrà affrontare ben altra sfida. Viene indagata per peculato e truffa i danni dello Stato. Un incubo che si chiuderà troppo tempo dopo con il non luogo a procedere deciso dal giudice. In mezzo sofferenza, fango mediatico e un'ampia zona d'ombra che ricorda un'opera di Kafka. Perché non sono gli accusatori a dover dimostrare le sue colpe, bensì lei a dover provare la propria innocenza. Questa è la storia raccontata da Fabio Cavallari in Innocente, edito da LOG e sostenuto dall'Associazione Enzo Tortora. Racconta della tua vicenda giudiziaria. Sì, racconta in realtà della mia vita. Nel senso che partiamo assieme a Fabio, abbiamo fatto un lavoro un po' aritroso, dalla mia infanzia, al periodo poi degli studi, eccetera, e poi arrivando ovviamente al periodo lavorativo, sia nell'esperienza della multinazionale americana dove lavoravo, in Whirlpool, e poi l'esperienza come direttore dell'Agenzia del Turismo, fino ad arrivare poi alla vicenda giudiziaria. Che cosa speri che una persona che legge questo libro si porti a casa? Cioè, il messaggio che gli vuoi dare, al di là della tua vicenda autobiografica, qual è? Ma allora, io parto da un esempio molto pratico. I miei studenti, io sono una docente adesso, insegno in due scuole, due scuole private, e vorrei che questo libro fosse un insegnamento sotto due punti di vista. Allora, il primo è che, sull'aspetto proprio che nella vita, comunque anche da una vicenda negativa, si può trarre qualcosa di positivo, io ho cambiato la mia vita completamente, sono una donna contenta, sono felice di quello che faccio, e quindi davvero non tutti i mali poi alla fine vengono per nuosso, nel senso che ho cambiato tante cose, anche assistita da una coach in modo particolare, eccetera. Quindi questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto che spero che diventi una case history la mia storia, con questo non che la gente debba vivere ogni giorno terrorizzata dal fatto, la giustizia, cosa mi capiterà, però bisogna imparare a vivere davvero con i piedi per terra, perché non sai mai quello che ti può succedere dalla sera alla mattina. E' tutto per questa prima parte, domani parleremo anche di Varese Mese, abbiamo un po' da raccontarvi della rivista del nostro gruppo, adesso la pagina sportiva con i colleghi di Bianco Rossi News.